salve buongiorno buongiorno io sono max abbiamo telefonato anna scarafoni benvenuta ai su tirolo blind aids sa che questo è il primo episodio che giriamo in italiano quindi lei è la prima politica italiana che abbiamo nel nostro programma spero di non essere l'unica speriamo io adesso l'accompagnerei lì giù dove c'è la nostra macchina di produzione con cui la portiamo al luogo dove si terrà l'incontro si terrà la trappola esatto la trappola l'incontro dell'appuntamento al buio con l'altra persona è eccitata no io sono sempre molto curiosa la curiosità è una troppo la curiosità è un è la trappola no nel nostro programma è una cosa positiva no 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 io sono curiosa devo dire quando si è curiosi ci si diverte di più sono contenta quando posso esibire questa curiosità perfetto la macchina è questa lì davanti quale quella prima qua mi deve scusare io non guido spesso quindi se vuoi guido io arriviamo tutti vivi faccio entrare lei qua grazie con la cintura attenta al microfono sì ci state dietro metto anch'io la cintura che callo che fa oggi a bolzano non ve lo dica ok ci metteremo un 15 minuti per arrivare alla location e poi siamo lì non è che si è chiusa la strada ma spero proprio di no no aspetti un attimo faccio cerco di fare una telefonata no ma magari si può parlare che ci fanno passare magari ci fanno passare no ok provi a parlare com'è mi sembra che c'è uno che blocca la strada prova a chiedergli se per emergenza si può passare no ma è una protesta climatica mi sa oh ma no ma magari può provare lei a parlarci ma non ci credo non ci credo è il mio pane questo sei una protesta climatica buongiorno sei una protesta climatica mi sa che è il nostro blind date no piacere io mi chiamo Anna Scarafoni potete accomodarmi intanto io vi porto una bottiglia d'acqua e le persone che stanno fuori quali persone? quelli lì quelli delle macchine dovranno aspettare ma non ci credo no non ci credo vabbè allora io non mi hanno detto un granché mi hanno detto aspetta qua il tuo blind date allora dimmi tu intanto tu chi sei e che ruolo hai allora io sono Zeno no questo cosa sarebbe per attaccarsi a qualche statua? io non ho capito servirebbe per attaccarsi a qualche statua? sì è per al lao conte del giardino del vaticano serve per attaccarsi lì questo vabbè se lo permetti lo metto in maniera simbolica allora dimmi chi sei no io sono Zeno Ovo Koflo sono da quattro anni più o meno che sono attivista di Fridays for Future quindi in realtà non c'è non c'entro niente con l'ultima generazione così però diciamo che da quattro anni che cerchiamo di scendere in piazza per portare avanti il tema dei cambiamenti climatici e portare al centro della discussione politica il fatto che abbiamo poco tempo per finalmente affrontare questa transizione verso le rinnovabili verso la tutela dell'ambiente la tutela delle nostre risorse ma di che cosa ti occupi tu nella vita? al di là di questo io sono musicista ho studiato musica violino qua a dieci anni al conservatorio del rinnovamento poi ho fatto il master a Cesena adesso studio economia a Ferrara anche e lavoro come libero professionista nella musica al momento a Bolzano alla fine bisogna sono molto in giro perché ci sono tanti progetti a Bolzano poi un po' in Emilia Romagna scusami che li ho tolti prima sì certo sono stato anche un po' a macerata un po' in giro per l'Italia perché diciamo che non è facilissimo nel mondo della musica allora io sono contenta di poter parlare con un attivista sono contenta perché naturalmente io sono farmacista da 40 anni ho una formazione scientifica ma ad un certo punto della mia vita ho deciso di studiare filosofia per cui alla formazione scientifica ho associato una formazione umanistica ecco allora se vuoi tu se vuoi iniziare tu a parlarmi di questa questa messa in scena diciamo no quello non lo so no dimmi ci sono cascati ci sono entrati ecco dimmi diciamo le conseguenze del cambiamento climatico sono davanti agli occhi di tutti cioè sono chiare le cause che sono le emissioni di gas serra in atmosfera è chiaro da più di 20-30 anni è anche chiaro che sappiamo quello che dobbiamo fare per ridurre le emissioni in atmosfera però è da troppo tempo che non affrontiamo questo tema che è il tema centrale in realtà che dovremo tutti insieme come società affrontare in primis la politica no? e quindi per questo io mi sono attivato perché studierò anche a lungo attivo nei Verdi adesso mi candido anche per per le provinciali per i per i Verdi e quindi devo anche dire so che ci diamo del tuo ci diamo del lei del tuo del tuo volentieri ci siamo del tuo no io sono anche molto so che sei il consigliere comunale no a Bolzano e per me è un lo vedo come un grande problema se ci sono dei partiti soprattutto del degli esponenti politici che da un certo punto di vista e so che ce ne sono nel suo partito negano la crisi climatica dico che non è un problema dicono nelle istituzioni votano contro qualsiasi cosa che vada nella direzione giusta verso una transizione giusta ecologica e soprattutto anche anziché cercare di lavorare alle soluzioni cercano di cercano di ostocolare in tutti i modi anche attraverso toni molto spesso allora non molto rispettosi posso risponderti? sì certo allora secondo me bisogna partire da un altro punto di vista qual è il punto di vista? la terra fa parte di un sistema dinamico la terra fa parte di ha una rotazione intorno a se stessa e una rivoluzione intorno al sole i pianeti che fanno parte di questo sistema hanno influenze di tipo elettromagnetico sulla terra in primo luogo ma anche sull'intero sistema adesso quello che voi chiamate riscaldamento globale non dipende dall'inquinamento atmosferico o dall'inquinamento umano sulla terra dipende dalle variazioni dell'asse terrestre nel suo movimento rispetto al sole e questo perché noi siamo la coda di una mini glaciazione che è avvenuta tra il 1500 e il 1700 siamo questa coda i cambiamenti climatici ci sono sempre stati infatti sai benissimo che nel 219 avanti Cristo quando Annibale attraversò le Alpi non c'era neve attraversato il Moncenisio non c'era neve perché se no non avrebbero potuto passare attraverso il Moncenisio non avrebbero potuto passare gli elefanti posso scusa attraverso la politica la politica ha enormi interessi guardi enormi interessi guardi queste sono delle scusa fammi finire va bene va bene voi confondete le faccio per vedere un grafico le ho visti le ho visti scusami voi confondete quello che è il la emergenza quella che voi chiamate emergenza climatica la confondete con l'inquinamento dell'inquinamento è fortemente responsabile l'uomo ma non è fortemente responsabile l'Italia o l'Europa è fortemente responsabile il mondo intero la fermo qua allora la fermo qua voi intanto fammi questa distinzione perdonami no tu non puoi andare avanti nel discorso se non fai la distinzione fra quello che voi chiamate emergenza climatica guardi le faccio tre distinzioni subito le faccio tre distinzioni o l'inquinamento globale sono distinti tre problemi ci sono tre problemi un tema è il tema climatico l'aumento delle temperature media globale un decimo ogni cento aspetti un attimo adesso io l'ho ascoltata adesso mi ascolterei quanto dimmi di quanto salgono poi le faccio vedere le misurazioni scientifiche che sono state fatte no non serve questo è un tema climatico poi c'è il tema della natura e dell'ambiente che per esempio i fiumi inquinati per esempio il tema della plastica che c'entra molto di più col tema ambientale l'inquinamento si chiama inquinamento l'inquinamento delle acque l'inquinamento ambientale che c'entra molto di più con appunto la tutela della natura degli spazi naturali piuttosto che magari con le emissioni di gas serra e la CO2 ci sono tema e poi c'è il tema dell'inquinamento anche atmosferico sul tema della salute per esempio nelle città le città fortemente inquinate che portano a maggiori casi di tumori di problemi respiratori eccetera quindi ci sono diverse crisi diverse che che sono collegate tra loro ma è giusto anche distinguere che non hanno niente a che vedere con la variazione climatica allora parliamo del tema climatico niente a che vedere con la variazione parliamo del tema climatico la scienza tutti gli scienziati a livello globale sono unanimi nel dire 1600 scienziati hanno firmato una petizione contro questa cosa allora le catastrofi naturali sono davanti agli occhi di tutti parli dell'Emilia Romagna no perdonami lì non avevano pulito i fiumi e non avevano fatto i vasi di inversamento guardi signora tutta l'acqua che è scesa in così poco tempo noi ci possiamo preparare quanto vogliamo ma se noi non affrontiamo il tema dei cambiamenti climatici sarà un disastro per tantissime parti della popolazione la causa scusami allora risali alle cause è scesa tutta quest'acqua perché? perché negli ultimi anni l'abbiamo visto sono aumentate gli eventi climatici estremi e questo lei non può negarlo perché lo si è visto in giro per il mondo e iniziamo a vederlo anche da noi in Europa sono aumentati perché c'è una maggiore energia all'interno del sistema globale perché ha aumentato la concentrazione di CO2 nell'aria e questi sono dati scientifici che io non veramente tu lo sai quanto incide? e quindi aumentano ma io ti faccio delle domande e tu non rispondi quanto incide? io vorrei sapere quanto incide io vorrei che se lei non ha fiducia nel quello che dice la scienza no la scienza io sono una scientifica perdonami guardi adesso mi devi ascoltare perché questa cosa mi fa arrabbiare io sono una scientifica se lei vuole andare in ospedale va da un medico perché è un esperto quello che ha lavorato la sua vita su questo campo e si fida di questa persona se io voglio imparare la musica io sono musicista io non vado da un musicista qualunque io cerco di andare dal violinista più bravo che insegna in Italia da noi e quindi mi cerco una persona che è attiva nel campo d'anni che ne sa che l'ha studiato allora tutti gli scienziati climatologi più bravi a livello globale non è vero dimmi chi è io ti dico no non è vero ma ascolta perdonami io non continuo questa discussione io non la continuo tutti gli scienziati climatologi a livello globale l'IPCC che è il avete assorbito senza nessuna cultura la propaganda più allarmista più deteriore che vi viene propinata vi sta venendo propinata allora tu dimmi quanto inquina l'Italia in termini percentuali di CO2 dimmi quant'è la percentuale dell'Italia che inquina a livello di emissioni di CO2 dimmi quant'è quindi le emissioni di CO2 sono un problema secondo lei ma no io ti sto no perché qui dobbiamo partire dalle basi qui mancano le basi e questo non è neanche in discussione lei può dire quello che vuole magari non crede sono domande a cui tu non sei in grado di rispondere lei cos'è l'IPCC? cos'è l'IPCC? è semplice Intergovernmental Panel of Climate Change delle Nazioni Unite ok allora lei mette in discussione le Nazioni Unite lei mette in discussione che un organo io metto in discussione la gente che ci mettono ci sono interessi economici di cui tu non sei minimamente al corrente o forse è al corrente chi sta sopra di te e ti induce ad assumere atteggiamenti lesivi nei confronti della società civile come quando vi fermate davanti alle autostrade e impedite alle ambulanze di passare alla gente di andare a lavorare la gente che organizza questo tipo di cose sa esattamente di che tipo di interessi economici si parla e sono sopra la vostra testa purtroppo guardi le posso dire una cosa allora chiudiamo questo punto perché vedo che non arriviamo a una base tu non sei in grado di rispondere alle domande non sei in grado di rispondere alle domande va bene e io non posso dirle mi dispiace molto interrompere per un attimo una discussione che sembra molto importante solo per paura di farvi fare affamare vi farei ordinare qualcosa? dobbiamo mangiare qui? sì abbiamo scelto un ristorante vegano e vi do qua il menù con questo cellulare e se potresti chiamare tu e spiegare un po' dove possono portare il cibo così magari mangiando un po' ci si rilassa anche un po' la cosa vorrei però prima un attimo concludere in questa discussione c'è troppa politica c'è poca scienza e troppa politica questo non ve ne rendete conto non vi rendete conto che quando la politica domina la scienza è solo per interessi economici sta dicendo delle cose false sta dicendo delle cose false ma lasciamo perdere come è successo col covid ascolta io nella scienza ci lavoro io nella scienza ci lavoro per cui so esattamente quali sono le forze che muovono determinati interessi allora è molto difficile devo dire questa inizione con lei no è difficilissimo ma anche perché voglio dire mi trovo di perché se mancano le basi proprio del ma per te mancano le basi a te mancano le basi della struttura del mondo del scientifico a te mancano le basi scientifiche è veramente vabbè ci ordiamo qualcosa da mangiare? si ordina quel che vuoi no guardi le leggo un attimo allora ci sono guardi le bowl le conosce? le insalate tipo patate, pomodoro, cipolla, carote, basilico, insalata no io non mangio cipolla non mangio peperoni possiamo chiedere senza cipolla senza peperoni ma qui più peperoni ci sono questo? rigatoni ligure con pesto al basilico va bene prendiamo questi? va bene dai prendiamo due di questi ok c'è anche la cipolla qua però allora dico uno senza cipolla si se riescono a non metterla se no patente alla scarta allora rigatoni ligure da bere anche? ci abbiamo l'acqua hi Steven è Zeno ciao volevamo ordinare due rigatoni alla ligure siamo qua in via Zara non so il numero però siamo in mezzo alla strada grazie grazie mille a dopo grazie grazie chissà che magari grazie un po' di rigatoni all'italiana possono migliorare allora ti faccio io un'altra domanda giusto per cambiare un po' l'argomento tu lo sai cos'è l'obsolescenza programmata? si per fortuna l'Europa ha portato avanti una legge per contrastare quando è iniziata l'obsolescenza programmata? chi e quando e dove è iniziata l'obsolescenza programmata? quello che fa sì che il tuo telefonino non duri più di un anno e mezzo quello che fa sì che il tuo computer non duri più di cinque anni quello che fassi questa determinazione di tipo industriale alla base delle quali c'erano solo interessi economici a scapito di qualunque popolazione voglio sapere da te e rispondimi quando dove come e qual era l'oggetto nei confronti della quale è iniziata l'obsolescenza programmata e chi l'ha decisa? noi siamo in un sistema economico ma rispondi o no? noi siamo in un sistema economico ma rispondi o no? posso? no ti ho fatto una domanda rispondi noi siamo in un sistema economico dove no ti mancano le basi perdonami posso? ti mancano le basi perdonami va bene va bene ti mancano le basi io non posso continuare no perché parliamo a parliamo a allora c'è un sistema economico dove chiaramente è basato sul più vendo più le persone consumano più aumenta il mio profitto e non si basa sul qual è il benessere delle persone cosa vogliamo raggiungere noi come società e quindi chiaramente allora io ti ho chiesto quando è iniziata questa cosa la sai? non lo so ma non mi interessa mi interessa che è un problema che dobbiamo risolvere no 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 dobbiamo risolvere attraverso la politica no 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 attraverso l'impegno dei cittadini lo devi sapere quando è iniziata questa cosa e l'Unione Europea contro la quale voi di Fratelli d'Italia molto spesso andate lì a insultare l'Unione Europea che è causa di tutti i nostri problemi quando una volta non potete dare la colpa ai migranti non mi risulta l'Unione Europea ha fatto una legge per contrastare l'obsolescenza programmatica per fare in modo che queste aziende come lei giustamente dice che pensano solo al loro profitto individuale e non al benessere della cittadinanza a fare un prodotto questo è uno specchietto per le allodole non è possibile tornare indietro sicuramente l'Europa in questo senso ha fatto grandi passi avanti anche grazie all'impegno dell'Unione Europea e mi spiace che partiti come Fratelli d'Italia e l'Unione Europea l'ecologismo è in tutti noi hanno votato perché avete votato contro allora? contro l'obsolescenza programmata a livello europeo contro l'economia circolare e questa proposta che è stata fatta dalla Commissione avete votato contro e questa è proprio la questione perché non è possibile tornare indietro perché sono specchietti delle allodole non risolvono i problemi io voglio andare in politica per cambiare le cose per migliorarle per muovere qualcosa di positivo per la nostra società allora bisogna affrontare in questo anche il tema dei rifiuti, del riuso dobbiamo entrare in un'ottica dove creiamo prodotti che vivano, che abbiano una vita il più lungo possibile come una volta guarda, allora ripeto, allora ripeto facciamo un sistema efficiente, sensibilizziamo i cittadini c'è una divisione fondamentale un conto è l'inquinamento e quello che i cittadini possono fare, fanno o non fanno contro l'inquinamento e ti assicuro che per una questione culturale molte persone hanno l'ecologismo dentro di sé i verdi dovrebbero non esistere perché ciascuno di noi ha l'ecologismo dentro di sé allora un conto è l'inquinamento un conto è non gettare la plastica insieme alla carta insieme al vetro e cercare di riutilizzare al massimo questi materiali che possono essere delle risorse un conto è dirmi che abbiamo l'innalzamento delle temperature non so stiamo in inferno, ti sembra di essere in inferno, a me no l'innalzamento delle temperature è 7 decimi di grado ogni 100 anni e fa parte della coda della glaciazione che c'è stata, mini glaciazione che c'è stata dal 1500 al 1700 un altro discorso è l'interferenza dell'antropizzazione sul clima un'altra cosa, le alluvioni in Emilia Romagna tu lo sai che sono stati occupati i letti dei fiumi dal punto di vista delle costruzioni e dell'antropizzazione del coso occupano i letti dei fiumi, li deviano tu lo sai che il Nilo virtuosamente esondava ogni anno creando la fortuna dell'Egitto e la civiltà egiziana è stata creata dall'esondazione del Nilo cosa hanno fatto? hanno fatto una diga e hanno impedito che il Nilo perché in Emilia Romagna non è stata fatta dovevano fare 120 invasi per raccogliere l'acqua in più ne hanno fatti una roba tipo cinquantina per cui meno della metà di quelli che dovevano fare certo, allora sicuramente quando l'uomo si inserisce nella natura la natura deve essere rispettata e la natura la rispetti non invadendo i letti dei fiumi non disboscando tu lo sai che i tuoi amici verdi tu lo sai che i tuoi amici verdi allora va bene siamo d'accordo è stato tutto antropizzato ieri perdonami allora ieri a livello europeo ti do un'ultima notizia in comune quando c'è da cambiare destinazione d'uso a una collina vale a dire togliere gli alberi e renderlo verde agricolo cosa che tu mi insegni non si fa i tuoi amici verdi sai cosa fanno? escono dall'aula escono dall'aula i verdi hanno portato avanti in questi anni guarda non ne parliamo hanno elaborato il regolamento del verde per tutelare il verde pubblico e fare in modo che a ogni chiacchiere quando tu esci dall'aula sono fatti perché a ogni agro tagliato ne vengono piantati altri certo e quando invece li togliono per diventare verdi agricoli per fare un piacere al Bauer Bund abbiamo fatto insieme il piano del verde che è stato il primo diciamo piano che è stato elaborato anche in maniera partecipativa sono stati coinvolti tutti i quartieri i consigli di circoscrizione i cittadini singoli ma mai escono quando devono tirare via gli alberi dalle colline perché escono dall'aula perché votano a favore uscire dall'aula è come votare a favore lo sai? guardi allora proprio ieri a livello europeo è stata approvata la Nature Restoration Law è una legge importantissima proposta dalla Commissione Europea che purtroppo hanno cercato in tutti i modi i partiti conservatori che erano ACR dove c'è Fratelli d'Italia ID dove c'è la Lega e anche il Partito Popolare Europeo hanno cercato di bloccarla e hanno votato contro però lo stesso il Parlamento Europeo per 36 voti è riuscito a far passare questa proposta della Commissione che prevede proprio questo ridare spazio alla natura quindi dare dei luoghi dare dei luoghi ai fiumi per uscire sai quanti contadini in Italia dovranno chiudere baracca? per questa legge? tu lo sai che i contadini vedi come siete ideologici come mai sono scesi tutti in piazza? con questa legge i contadini dell'Europa sono scesi in piazza dalla Francia all'Olanda all'Italia sono scesi in piazza cosa vuol dire? vuol dire che un sacco di aziende agricole risentiranno di questa maggianata di legge che è stata fatta risentiranno questo purtroppo fa parte della narrazione molto spesso falsa guarda che i contadini in piazza hanno più valenza perché loro col lavoro si sono molto confrontati hanno molta più valenza di voi che occupate le strade io non ho mai occupato le strade e voi in generale tu non sei neanche uscito dall'aula allora non generalizziamo non generalizziamo i contadini fanno sono in realtà se io penso anche nella storia sono sempre stati sono la spina dorsale alla fine della nostra società perché ci producono il cibo hanno a che fare tutto il giorno con la natura loro dipendono in tutto e per tutto dalle risorse naturali esiste un'economia agricola esiste un'economia agricola dalla biodiversità e quindi è proprio importante per i contadini e per anche avere un'agricoltura sostenibile nel tempo tutelare la natura gli spazi naturali la biodiversità guarda che loro hanno a che fare tu lo sai che nel 1500 al 1700 il tamigi era completamente ghiacciato la laguna di Venezia era completamente ghiacciata tu lo sai questo? no non lo so sono ignorante su questo non lo sai mi dispiace vediamo un po' qua con il cibo allora penso che almeno siamo d'accordo sul fatto che magari in futuro meglio non mettere tutte le posate nella plastica adesso siamo d'accordo guarda io sono vediamo un po' su questa cosa io raccolgo tutto differenziato le piace la musica? che musica ascolta? a me piacciono i cantautori italiani perché mi piacciono i contenuti poetici però in linea di massima a me piace più la letteratura letteratura e filosofia però è stato un concerto di musica classica beh certo ma te metto questa cosa qui qui e l'hai detto lui no perché l'arte la musica almeno per me indipendentemente adesso appunto dalle posizioni politiche magari può essere anche quello che unisce quello che mette al centro un po' anche il senso di perché noi siamo qua perché siamo uomini perché possiamo fare queste bellissime uomini e donne non facessero eseguire Tchaikovsky o che stiano discutendo sulla direttore d'orchestra Beatrice Venezzi se capisci che contraddice si ma contraddice si però è stata parecchio contestata ma contraddice quello che dici tu perché di fatto tutto cerca di essere politicizzato qualche cosa sfugge l'arte in assoluto dovrebbe sfuggire l'arte in assoluto il valore in sé ma ma la politica cerca di entrare ovunque e non tutti gli ambiti sono politicizzabili non tutti gli ambiti giusto ci sono degli ambiti che devono essere lasciati puri per quello che è il messaggio puro all'umanità invece questo non avviene perché se mi impedisci di 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 perché ciaikoski è russo guardi che non è vero c'è un mio amico che suona il contrabbasso alla scala di milano e ciaikoski lo esigui l'anno scorso c'era la suiti gol filamonica all'inizio che è questo bellissimo all'inizio hanno provato all'inizio non volevano neanche i corpi di ballo che venivano dalla russia all'inizio non volevano neanche gli atleti che venivano dalla russia neanche gli atleti paralimpici ma e conosce la suiti gol filamonica se vuole quest'anno adesso indipendentemente la invito volentieri a questo concerto è un'orchestra che è stata fondata due anni fa e unisce cioè è un'orchestra di alto a tesini dove ci troveremo una settimana a dobbiaco per fare le prove dove verranno appunto tutti i musicisti da tutte le parti del mondo anche europei è parzialmente finanziata dal comune dal comune dalla provincia io sono nella commissione cultura che finanzia queste cose qua sì penso che i comuni finanziano le spese di vitto alloggio per i cittadini musicisti che suonano esatto vitto alloggio nell'orchestra sì io basta arriva a Carmignola sì vero per me è sufficiente è anche tanto questo no penso che magari un luogo un terreno da cui possiamo partire comune è l'inquinamento no è il tema proprio dell'importanza della natura degli spazi naturali del rispetto della natura degli spazi di fondo il problema che cioè la questione cardine che collega disuguaglianza sociale l'istruzione dell'ambiente sempre più aumento del potere di poche aziende di poche multinazionali di un sistema economico rispetto alla democrazia e alle istituzioni è un sistema in questo caso anche un sistema economico costruito sul solo sulla massimizzazione del profitto che ha creato tantissime disuguaglianze che ha creato tantissima distruzione di spazi naturali e quindi tu la fai facendo una confusione secondo te è tutto per dobbiamo cambiare il sistema economico mettendo al ce facendo un sistema economico che parta dal benessere delle persone e io lo voglio cambiare in mano a 3-4 persone al mondo per creare un sistema economico e lo possiamo creare solo attraverso l'impegno democratico della società civile della politica per mettere al centro il benessere delle persone la tutela dell'ambiente la tutela della natura c'è il modello per esempio di Kate Raworth della Donut Economics che vede proprio che è proprio fa vedere cioè l'economia guardi del maccherone possiamo prenderlo che secondo me sarebbe proprio il modello che dobbiamo cercare di costruire all'esterno il limite dei limiti planetari non possiamo sfruttare risorse che non abbiamo perché abbiamo un pianeta non ne abbiamo tre e quindi dobbiamo vivere all'interno dei confini delle risorse del nostro pianeta risorse naturali al centro però dobbiamo anche garantire una sussistenza degna un reddito una casa dove possiamo vivere del cibo del tempo libero questa è l'economia del futuro che dobbiamo costruire non più basata solo sulla massimizzazione del profitto sulla massimizzazione del potere in mano di poche persone ma sul benessere di tutta la società e della collettività questo non è il libro dei sogni ma questa è la direzione in cui noi dobbiamo lavorare politicamente attraverso la democrazia attraverso l'impegno civile sulle strade in piazza e nel Parlamento una voce una voce proprio cioè non c'è nessuna attinenza alla realtà con quello che dici questo c'è quando Enrico Mattei ha cercato ha cercato ci sono tantissime politiche concrete in questo in quello che ho detto aumentare il sistema sociale per esempio il tema della casa rendere non dare spazio ma sono delle alla speculazione immobiliare non c'è nessuna attinenza con la realtà guardi comunque abbiamo già affrontato il tema ambientale climatico soprattutto io sono musicista e lavoro da contratto a contratto abbiamo pochissime garanzie pochissime tutele e soprattutto oltre al mondo dei liberi professionisti della musica ci sono tantissime persone che hanno un contratto e guadagnano hanno degli stipendi da fame ma tutto il mondo dell'arte risente di questo ma allora perché perché non introduciamo in Italia come c'è in Germania come c'è in Austria come c'è in quasi ogni paese europeo un salario minimo sarebbe una misura sacrosanta che sotto un certo livello le persone non è lavoro ma è sfruttamento quindi dobbiamo introdurre un salario minimo perché il governo di destra che c'è adesso si pone in maniera così forte contro un salario minimo sarebbe la base una misura sacrosanta ma scusa un secondo ma in 12 anni che ha governato la sinistra come mai ma la sinistra hanno fatto come mai sono stati capaci unicamente di fare un reddito di cittadinanza che ha svuotato di potere di lavoro qualsiasi categoria sono stati capaci di tenere la gente seduta sul divano forza lavoro io sono per per sostenere fortemente fortemente le persone che non possono lavorare o quelle che hanno lavorato e che hanno le pensioni minime e che con le pensioni minime non sono in grado di far fronte alle spese di una società come quella di oggi sono per sostenere tutte le categorie che non sono in grado di lavorare dai disabili alle persone che non hanno la possibilità quelli che possono lavorare devono andare a lavorare il mondo dell'arte ti do ragione non è per niente tutelato per niente non è tutelato ma voglio dire la sinistra ha governato per 12 anni ha messo questo salario minimo? no non l'ha messo ha fatto qualche cosa per tutelare il mondo dell'arte? no che cosa ha fatto la sinistra per sollevare scusami per sollevare la società italiana che cosa ha fatto in 12 anni la sinistra no dimmelo allora intanto c'è un disegno di legge quale? un disegno di legge in Parlamento proposto da PD, 5 Stelle Calenda Italia Viva tutti insieme sul salario minimo che hanno portato in Parlamento ma il salario lascia perdere perché ci sono delle valutazioni da fare adesso io ti parlo dei 12 anni precedenti quindi lei a favore del salario minimo o contrario? secondo me potrebbe essere una cosa io sono d'accordo che la gente guadagni al livello di potersi sostenere giusto quindi per un salario minimo deve lavorare comunque poi un'altra cosa importante avere un reddito è un diritto avere un reddito con cui vivere indipendentemente è un diritto ascolta il mio reddito non è mai stato un diritto è sempre stato solo frutto del mio lavoro è frutto del lavoro però poter in una società democratica sociale con una costituzione sociale secondo me tutte le persone hanno il diritto di mangiare di avere un tetto sopra la testa e di avere una vita dignitosa questa è una repubblica fondata sul lavoro giusto deve esserci il lavoro allora la gente guadagna se lavora il reddito deve essere automatico nel momento in cui tu lavori non perché esisti nel momento in cui tu lavori hai diritto ad un reddito dignitoso che ti permetta di vivere questo è ok per me la mia la mia posizione è che le persone che hanno reddito che hanno più anziché mettere le persone in strada e anziché colpire le persone che già hanno poco e fanno difficoltà e non hanno niente dovremmo magari andare da qualche evasore fiscale riscuotere qualche tasse da chi non le paga e aiutare le persone che ne hanno bisogno e garantire una sussistenza degna di vita a tutte le persone solo forse attraverso esperienza e vita riuscirai a liberarti di questa crosta ideologica in cui ti sei ficcato io credo questo attraverso esperienza vita e disillusione e disillusione vedo che non volete finire di parlare questa è una cosa positiva per noi ovviamente per me è chiuso tanto guarda la crosta ideologica non la interrompiamo oggi dato che eh infatti dato che il blind date sta per finire vorrei farvi un'ultima domanda voi vi candidate entrambi per le elezioni provinciali qua in Alto Adige se adesso venite eletti ce la farete nel consiglio provinciale a collaborare? guardi io posso essere molto chiaro io con un partito che ha la fiamma tricolore dell'MSI del movimento sociale italiano che è diciamo il portato del fascismo in Italia con un partito che è contro che nega i cambiamenti climatici è contro ogni diritto sociale e anziché risolvere i problemi soltanto li enuncia e fa diciamo anziché appunto creare più giustizia sociale porta avanti questo sistema economico che sta rovinando uomo natura e il futuro delle prossime generazioni non cioè non nulla da su cui collaborare e su cui spartire almeno a livello politico perché penso che siamo troppo distanti non si trovano a guarda invece io devo dire che con un politico con un partito che ha fatto dell'ideologia il suo caposaldo che parte da uno stato di impreparazione ma di propaganda e nello stesso tempo però ogni volta che si trova a dover gestire il potere utilizza tutti gli strumenti e recede da quelli che sono i suoi principi fondanti anche noi non abbiamo niente a che fare però almeno ci vediamo al concerto va bene al concerto della suite con il filamone va bene grazie lo stesso a te allora basta finito siamo tutti fratelli d'amore e di libertà bianchi neri rossi gialli siamo tutti insieme per l'eternità siamo tutti fratelli d'amore e di libertà bianchi neri rossi gialli siamo tutti insieme per l'eternità per l'eternità e di libertà Grazie.